Buonasera a tutti, grazie dell'invito e un ringraziamento particolare va al presidente Massimo Calzoni che ha organizzato questo evento. Un ringraziamento particolare al sindaco e a tutte le autorità che interverranno. Noi come CESF già da qualche mese abbiamo reso una sede qua operativa su Norcia per fare comunque formazione direttamente alle aziende che richiedevano assistenza in loco. Questo incontro di Norcia si allinea su un percorso voluto dalle scuole del cratere. Perché? Perché ci siamo posti l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica per quanto riguarda il cambiamento nell'ambito della pianificazione del territorio. Viviamo in un Lumbria, in un territorio pieno di patrimonio culturale molto importante, fatto di edifici di pregio e soprattutto anche di borghi e quindi riteniamo fondamentale fare una sinergia su tutto quello che sono le attuali tecniche innovative e soprattutto la sinergia anche per quanto riguarda la sicurezza. La nostra regione ovviamente è una tradizione specializzata in quello che riguarda il restauro conservativo e del restauro e quindi la nostra missione è proprio quella di creare queste competenze e quindi creare delle aziende che abbiano delle maestranze competenze adeguate per far sì che la ricostruzione avvenga con standard innovativi elevati ma soprattutto in sicurezza. Grazie.